Dopo i protocolli d'intesa siglati con AISLA, AISM, Tribunale del Malato e ACMO, oggi insieme all'Avvocato Marino che rappresenta l'Associazione Vito Ambiente, sigliamo il protocollo d'intesa a beneficio di quelli che possono essere necessità dei nostri pazienti e dei familiari dei nostri pazienti. Un percorso di alto valore sociale che ci continua a vedere impegnati in quelli che possono essere le esigenze che vanno oltre le cure dei nostri assistiti. Un protocollo che prevede tra le altre cose supporto alle famiglie in termini di assistenza anche morale da parte dei volontari della vita ambiente.